Boom di turisti a Bari con numeri importanti per il settore nonostante il periodo. Indubbiamente difficile chiamarlo autunno con un sole che promette di splendere almeno fino alla metà di ottobre e temperature più gradevoli di quelle estive, senza afa e umidità. A prendere d'assalto la città capoluogo soprattutto svizzeri. Turista? Sì, sono turista, sono della Svizzera. Ci piace molto perché non fa così caldo come in istante, non c'è troppa gente e c'è un posto molto bello per stare l'autunno, sì. Easy, light. È conveniente, luminosa, calda e allegra. Happy. Beautiful, sunny, relax. È bellissima, soleggiata, rilassante, accogliente e le persone sono adorabili, la raccomando. È la prima volta che vengo a Bari e non è stata proprio una scelta mia il periodo perché ho partecipato a un matrimonio ieri di amici, però è stata una scoperta incredibile perché questa stagione è proprio godibile come clima e si riesce a visitare veramente con grande piacere. È da Parma vengo. È la prima volta e la consiglierei a tutti, anche in autunno perché la gente è simpatica tutto l'anno. And I like the wine.